Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. È stata una domenica calcistica che ha regalato qualche sorriso alle Terramani e alle Bruzzesi e pochi sorrisi per qualche altra squadra. Guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Partiamo dal Terramo per quanto riguarda la Serie C. Un 1-1 che è da considerare come titolo del centro un buon punto perché il sesto risultato utile consecutivo, anche il tecnico, è abbastanza detto bene così. Ha promosso il diavolo. Una squadra importante, una squadra quadrata, una squadra che gioca insieme da diverso tempo. In rimonta dimostra ancora una volta carattere, come ha detto allunga la Serie Positiva. È stato strameritato perché al di là di poche occasioni, tra cui una traversa su punizione, l'Albino Leffe non ha creato grandi palle gol. Anzi, il Terramo è andato vicino anche al colpaccio. Quindi da questo punto di vista note assolutamente positive. Personalmente sono anche contento dell'esordio in Serie C di Alessio Milillo, che l'anno passato a San Nicolò. È un ragazzo che ha grandi doti e grandi qualità. Però è stata una squadra, ancora una volta, che ha dimostrato il suo grande carattere. Ha fatto gioire i 30 tifosi e più che erano a Bergamo e sono sobbarcati un bel viaggio. Per il resto possiamo dire anche che è stata una giornata di ricampionato che ha praticamente... Ecco, riguardiamoci i risultati comunque di questa domenica con la grafica, con l'ausilio della regia. Eccola qui, insomma, una giornata dai tanti pareggi, dei risultati anche striminziti. Questi 1-0, insomma, e anche molti 0-0. Sì, compreso l'anticipo di sabato di Trieste, sono stati segnati appena 8 gol. Praticamente sono stati diversi 0-0, tra cui il derby marchigiano tra San Benetti e Sefano, il Pordenone fermato a fermo, trappare si ha chiuso anche in dieci uomini il Pordenone. Abbiamo detto del pareggio del Teramo, il Renate fa un gran colpo sul campo del Bassano, mentre la curva con il nuovo allenatore Pagliari in panchina funziona per il Gubbio che ha battuto anche la Reggiana. E poi c'è, come vogliamo definirlo, Farsa, Scempio, il caso Modena che non ha giocato neanche ieri e a questo punto di fatto abbandona il campionato che torna a essere numero pari perché è la terza volta che non gioca, quindi di fatto c'è l'esclusione. Di regolamento dovrebbe esserci l'esclusione. Domenica scorsa si era ovviato con una decisione da parte della federazione alla gara di Fano, ma questa volta credo che non ci siano appigli. Guardiamo anche la classifica di Serie C perché a questo punto il Padova tra l'altro è virtualmente primo, con questi tre punti che comunque arriveranno a tavolino. Questo 0-3, insomma, adesso ecco, stiamo parlando ovviamente di classifica virtuale. Il Renate che ha agganciato tra l'altro il Pordenone. Teoricamente col Modena escluso, Modena che non ha fatto punti con nessuno, bisognerà vedere cosa si decide, se restituire i punti o togliere i punti fatti dalle altre formazioni. Probabilmente verranno tolti i punti alle altre formazioni e quindi la classifica di fatto cambierà, però da questo momento in poi, qualsiasi forse la decisione, non ci sono più turni di riposo per le formazioni. Quindi di fatto questa è anche una cosa al momento, a qualche giornata alla fine del giorno d'andata, un po' negativa per il Teramo perché aveva comunque l'appiglio di aver già osservato il turno di riposo. Adesso avranno tutto lo stesso numero di partite giocate, il Fano diventa a questo punto ultimo in classifica, però il Teramo si stacca, al di là dei pareggi, comunque sei, che sono tanti. Il Teramo infatti ha una gara in meno. Sì, è una gara in meno che di fatto però con l'esclusione del Modena avrà lo stesso numero di partite delle altre. Però anche le altre squadre che hanno vinto col Modena, mi viene in mente per esempio la Reggiana, da nove scende a sei, quindi è comunque una quotazione buona, importante per il Teramo in classifica. Si trova sempre lì a ridosso magari della zona play-out, però è anche una squadra che ha perso solamente due volte. Vediamo un po' da questa grafica è perfetta che si può vedere che il Teramo è una squadra che ha perso di meno delle squadre che sono in basso in classifica. Ha pareggiato tantissimo, però il pareggio muove sempre la classifica e quindi è un buon risultato. Domenica prossima la C, infatti, è un campionato che non torna in campo mercoledì, ma la domenica prossima c'è una gara importante col Sutturone. C'è una gara importante col Sutturone, ne parliamo tra poco. Ci andiamo a sentire invece Asta, un'asta che comunque guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, come è giusto che sia, abbiamo detto giornata in chiaroscuro e in fondo insomma un 1-1 che ci sta ed è un buon punto, guardiamoci l'intervista. Speravo che durasse di più, non lo so, cerchiamo di… no, effettivamente analisi giusta. Un brutto primo tempo, un primo tempo di una squadra nostra, uscivamo male, uscivamo male, l'avevamo preparato in certo modo, sapevamo la qualità loro di palleggio e l'hanno messo in pratica totalmente, però siamo usciti molto male con i due attaccanti, anche con i centrocampisti, i due esterni nostri si sono fatti schiacciare molto sia da Gelli che da Gonzi, quindi hanno preso molto campo e noi appena conquistavamo palla, loro erano numerosi in zona palla, non siamo riusciti a fraseggiare, quindi un brutto primo tempo, anche se un brutto primo tempo, c'è stato un loro bellissimo grosso punizione, avevamo avuto subito una palla clamorosa con barbutia tu per tu, è un'altra palla filtrante, loro predominio netto, ma di occasioni clamorose no, è stata quella punizione battuta bene. Secondo tempo è un'altra storia, ma non un'altra storia totalmente diversa, perché non è che abbiamo fatto benissimo, però sicuramente è un altro piglio, forse loro si sono abbassati un pochino, riuscivamo a ripartire un po' di più e credo che poi a parte il gol di Barbuti è stato bellissimo, abbiamo avuto quasi per assurdo una palla clamorosa a gol di a vincere la gara, forse sarebbe stata eccessiva, però l'abbiamo avuta, poi loro avevano questa supremazia, però siamo stati bravi, poi ho cambiato subito il sistema, 4-2-4, poi ancora 5. Che ha aumentato il potenziale offensivo nella ripresa, giocando addirittura con 4 attaccati. Per forza, dovevo cambiare qualcosa, perché non era la giornata brillantissima, quindi portare a caso un pari qua a Bergamo, che ripeto, una squadra che gioca calcio molto bene, forse non era il miglior albino ad F, perché altrimenti oggi riuscivi da qua con una sconfitta, però al pari va bene, portiamo a 6, che per noi è tantissimo di risultati positivi, andiamo avanti così, sono contento, soddisfatto di quello che ci mettono i ragazzi. È logico che, io l'ho detto anche prima della gara e lo ripeto, siamo una squadra che non ha grandi palleggiatori, quindi se non ci metti l'aggressività e le ripartenze immediate, come oggi, potrai fare fatica anche in futuro. Ecco, andiamo sui singoli, la prestazione di Tulli è ancora incerta. Guarda, Giacomo è un giocatore così importante, straordinario a mio avviso, che sì, insomma, io vorrei cercare, i miei giocatori li difenderò sempre, i miei giocatori li difenderò sempre, è logico che da lui ci si aspetta qualcosina in più, quando si mettono partite del genere fa un po' fatica, che non troviamo lui tra le linee, palle sporche, gli arriviamo, non era facile anche per lui, ecco, diciamo che l'attenuante, che anche per lui oggi non era facile, però abbiamo bisogno del miglior Tulli, perché in certe partite, in certe circostanze, la può risolvere anche il singolo, così come ha fatto Barbuti. Insomma, un'analisi anche tecnico-tattica da parte di Mister Asta, ieri, insomma, Teramo era un Teramo diverso, intanto non c'era Caidi, Barbuti, che però, insomma, era diffidato a Madio, e poi, insomma, in attacco si è preferito Barbuti a Foggia, insomma, il partito Barbuti da titolare. Però anche questa è una nota che va data a merito al Mister Asta, perché Barbuti, ricordiamo, era uno degli, tra virgolette, depurati del Teramo del mercato estivo, è stato rimesso in rosa e sta dimostrando il valore. Ricordiamoci, Barbuti l'hanno passato, di fatto non vedeva mai la porta, quest'anno è già al secondo gol, se non vado errato. Quindi, da questo punto di vista, è un merito del Mister, che lo ha rivalutato, lo ha rivitalizzato, dandogli fiducia, ieri è partito dal primo minuto, quindi, anzi no, è entrato in corso d'opera. Quindi, sicuramente, questo è un giocatore che è molto importante al Teramo, perché magari sopperisce all'assenza o comunque alla sterilità in questo momento di Foggia. Poi, l'intervista che abbiamo sentito ha dato altro spunto importante, ovvero Tulli. Tulli è un giocatore importante per il Teramo, che magari in questo momento non sta convincendo appieno, anche perché alcune partite sono un po' di sacrificio rispetto al gioco che preferisce Tulli, però Tulli è un giocatore importante, e se Tulli iniziasse a dare il suo apporto alla causa, devo dire che il Teramo può fare quel salto di qualità, che magari, giusto per allontanarsi da quella zona, perché non merita di stare in quella zona per le prestazioni che sta offrendo la squadra. Velocemente, il prossimo turno di Serie C, abbiamo detto che Teramo torna dopo due trasferte consecutive a giocare in casa, insomma, sarà una gara tosta contro il Suttirol. Sì, si gioca intanto regolarmente domenica e non mercoledì, ma i pochi campionati che non spende. Serie C non ci sarà il turno in presettimana. In campo mercoledì. Però il Suttirol è una squadra da non sottalutare assolutamente, ieri per esempio ha battuto il Vicenza, è una squadra quadrata, è una squadra che può dar fastidio, è una squadra che comunque gioca a pallone, e poi c'è un attaccante che viene dalla D, dalla Vispesero in particolar modo, ma ha giocato a Pineto e a San Nicolo come Rocco Costantino, che è un giocatore che sta facendo bene al primo anno di C, si sta comportando veramente bene, quindi è un giocatore da attenzionare in particolar modo. C'è un grande incontro che è Pordenone-Triostino al dia della classifica, ma ci sono altre gare importanti, tipo Vicenza-Sanbenettese, Feralpi-Salopadova, è un turno interessante, ma il Tenamo dopo, con il ritorno al Bonolis, deve cercare di tornare anche alla vittoria. e fare tre punti. Bene, noi dalla Serie C passiamo a parlare di Serie D, Girone-F, di questa altra sconfitta per la Virtus San Nicolò, in esterna all'Aquila, ieri tra l'altro una sconfitta maturata anche in superiorità numerica, davvero un San Nicolò ormai sempre più in crisi, e con la quinta dove vediamo la giornata, il turno di ieri, insomma questa nona giornata, che ha visto invece un Avezzano anche molto roboante, ormai quarta vittoria consecutiva, è una vastese anche sempre più schiaccia-sassi, quinta vittoria invece per gli uomini di Colavitto, Matteo. Sì, rispetto alle altre settimane possiamo dire che in questa giornata il campionato di Serie D ha registrato sette vittorie interne, quasi bottino pieno, di fatto non c'è stata solo la vittoria del San Marino che ha pareggiato, è quella della Jesina che ha perso in casa. Non ci sono stati pareggi, quindi la classifica si è in mossa parecchio, con tanti punti conquistati dalle formazioni. Per quanto riguarda la Virtus San Nicolò, è una brutta sconfitta, soprattutto perché è ottenuta sul campo dell'Aquila, che partiamo dal presupposto che l'Aquila è al di là dei problemi societari che sta affrontando un buonissimo organico. Però c'è stata l'espulsione giusta, anche perché è rivista anche nelle immagini, del giocatore dell'Aquila dopo 25 minuti e lì bisognava approfittarne, perché in sua verità numerica per oltre 60 minuti bisognava approfittarne, se non magari cercando di vincere, perché magari c'è qualche problema offensivo per la squadra, comunque la manovra non è arriosa, però ovviamente bisognava cercare di portare a casa un risultato comunque positivo, non concedendo nulla all'Aquila. Invece sono arrivate due gol da parte della formazione Rosso-Blu, che ha dimostrato ancora una volta, al di là dei problemi, di avere grande carattere, grande unità all'interno dello spogliatoio. Per la Virtus San Nicolò, poi quando piove, grandina in questo periodo, perché c'è anche da registrare l'infortunio di Mozzoni allo zigomo, probabilmente se ne passerà diverso tempo per lui, quindi da questo punto di vista... Con il portiere Gori, tra l'altro il portiere titolare che non... Gori è prossimo al rientro, sabato ha giocato con la formazione Juniors. Quindi già una buona notizia, perché rientrerà il portiere titolare da diverse settimane, in pratica manca dalla, se non sbaglio, dalla seconda, dalla terza, dalla prima giornata. Colgo l'occasione, tra parentesi, perché le migliori note per la Virtus San Nicolò arrivano dal settore giovanile, al di là dei risultati in sé per sé delle formazioni allievi giovanissimi, ma dal fatto che dopo l'anno passato di Stefano, classe 2000, Fabriani 2001, ieri ha esordito il portiere del settore giovanile biancazzurro, Davide Dostiglio, classe 2000, che ha ben figurato al campo dell'Aquila. Alliamoci a vedere, comunque, il servizio che riguarda l'Aquila Virtus San Nicolò, rientreremo per vedere un attimo la classifica, insomma, poi ci sarà anche lo spazio per la palla a mano, anche questa mattina con Andrea Di Marcello. Derby emozionante allo Stadio Gran Sasso d'Italia, vince l'Aquila contro il San Nicolò 2 a 0, nonostante l'inferiorità numerica per il Rosso al 24esimo a Ibe. 3-4-3 il sistema di gioco di Battistini che rilancia Boldrini dal primo minuto e sceglie la difesa tutta grande con Cafiero Pupeschi e Iboio. Campanile, tecnico del San Nicolò opta per un nuovo 3-5-2, lancia Dostilio, classe 2003 pali, tandem offensivo con Di Benedetto e Moretti, contestata la direzione arbitrale di Ilaria Bianchini di Terni. Ma andiamo in necronaca con le immagini di Donatello Ricci, minuto 9, Sieno fa tutto da solo, salta andiaie e punta la porta, ma calcia out da buona posizione. Proteste Aquilane alla minuto 21, Sieno in becca marra che a porta vuota viene contratto da dietro, il rigore appare solare, Bianchini fa continuare. Al ventiquattresimo l'episodio che potrebbe cambiare la gara. Lontano dal pallone Ibe colpisce un avversario, lo vede l'assistente che segnala al direttore di gara, Rosso Diretto e l'Aquila in 10. Il San Nicolò dà la sensazione di poter controllare la partita creando superiorità in mezzo al campo, ma al trentunesimo ancora Sieno in area, gran conclusione, Dostilio dice no. Trentaquattresimo si fa vedere il San Nicolò con il destro di Di Benedetto, la palla termina alto. Al trentaseiesimo altre proteste Aquilane, palla persa da Brenci ma con un fallo che appare evidente. Il direttore di gara fa continuare sulla transizione di Benedetto di testa, conclude a lato. Minuto 44, Mozzoni fa tutto da solo e calcia con il destro, palla out non di molto. Ripresa, subito cambio per l'Aquila entra esposito per Marra Aldono l'occasionissima Rosso Blu Valenti fa tutto da solo assiste per Boldrini che fa velo Brenci calcia a botta sicura da ottima posizione palla alta sopra la traversa. Inizia una serie di sostituzioni al ventunesimo altre proteste Aquilane Valenti segna ma c'è offside dopo Steri giallo anche per il numero 7 Aquilano il vantaggio arriva al ventisettesimo pennellata di Valenti da calcio di punizione colpo di testa di Caffiero colpevolmente lasciato solo l'Aquila 1 San Nicolò 0 il raddoppio arriva al trentatresimo fa tutto Nicolò Valenti calcio di punizione praticamente perfetto palla all'angolino basso e si risveglia anche il timido pubblico dello stadio Gran Sasso d'Italia al trentaseiesimo l'esordio stagionale di De Julis al posto di Boldrini ma non succederà più nulla l'Aquila batte San Nicolò 2 a 0 eccoci qui ben rientrati dopo il servizio intanto salutiamo Andrea Di Marcello ben rivisto buongiorno per lo spazio a palla a mano intanto vabbè non ha giocato insomma questo fine settimana la Lions adesso ne parleremo rimanendo in tema Serie D invece Matteo abbiamo visto il servizio insomma tu hai visto anche la partita quindi le colpe di questo cosa non sta funzionando in questo San Nicolò al dià di quello che dice mister Campanile che gli ha dato merito comunque di difendere la squadra fino alla fine ma manca la giusta attenzione la cattiveria cioè ieri è stato forse l'emblema perché abbiamo visto l'Aquila in dieci dal venticinquesimo del primo tempo giustamente perché è stato il colpo dato dal giocatore a Tersini non si è riuscito a approfittarne anzi le migliori occasioni di fatto le ha avute l'Aquila al di là dei due gol che è una squadra in superiorità numerica non deve prenderli soprattutto perché stiamo parlando di palla inattiva per il primo gol e poi il secondo un calcio di punizione sì punizione magistrale da parte del giocatore dell'Aquila però ovviamente non bisogna arrivare a quel punto anche che poi non c'è stata di fatto la reazione concreta con occasioni da arete nonostante i cambi operati è un momento davvero buio dopo la sconfitta contro la Iesina il pareggio con il campo basso era arrivato con grande merito sul campo della ex capolista a questo punto però adesso bisogna tornare a fare punti l'avversario di mercoledì non è propriamente indicato per tornare a farlo giocherà insomma il turno trasettimanale come gli altri campionati mercoledì sì il turno di mercoledì per la Virtus San Nicolo non è propriamente indicato almeno per quel che riguarda il tornare a fare punti in classifica che arriva la Vispesaro però ovviamente al di là dell'avversario bisogna cercare di limitare quelle pecche che stanno pregiudicando il cammino della formazione biancazzura non ci sarà mozzoni sicuramente bisognerà valutare anche questa assenza potrebbe rientrare Gori come stavi dicendo potrebbe essere insomma il giorno di Gori del rientro per portiere di Tolare insomma si spera di poter tornare alla vittoria il tecnico campanile cosa rischia in questo momento? ma al di là del fatto che c'è questo possiamo definirlo tour de force che si giocherà mercoledì e poi domenica al momento credo nulla bisognerà comunque valutare attentamente la posizione di tutti non solo il tecnico ovviamente con i risultati si dice sempre che il primo a pagare è l'allenatore però bisognerà valutare un po' la posizione di tutti ci sono dei problemi da risolvere ovviamente non credo che si possano risolvere in due giorni però mercoledì al di là di tutto serve una prestazione di grinta di carattere insomma al di là della classifica sarà un big match e l'altro è Francavilla-Vezzano insomma sarà un match tutto da seguire al di là del derby è una gara importantissima tra due squadre che stanno in ottima forma tra pareti certo certo bene dalla serie D insomma passiamo a parlare cambiamo completamente sport insomma parliamo di di palla a mano per questo weekend insomma che si è giocato solamente in A1 in A1 serie A d'elite femminile poi nelle serie minori A2 e dunque si torna però a giocare Andrea mercoledì mercoledì sì mercoledì riparte il nostro campionato giocheremo in casa contro Cologna una squadra di Brescia che sta facendo anche lei una buonissima stagione quindi si riparte si riparte subito di slancio con due partite in quattro giorni quindi ci stiamo preparando per questo devo fare una precisione che ieri è iniziato anche il campionato di serie B della Lions al quale partecipano i ragazzi che hanno meno spazio in prima squadra e più dei ragazzi della giovanile che sono quasi già pronti per il salto nel campionato Signores quindi purtroppo è iniziato con una sconfitta però siamo molto contenti e soddisfatti di questa di questa nuova avventura della della grande famiglia Lions del club anche di serie B insomma questi giorni comunque questi giorni trascorsi vi siete allenati avete ritrovato diciamo anche spirito di squadra come sono andati questi giorni sì diciamo abbiamo sfruttato questa settimana completa piena per allenarci stiamo pian piano migliorando anche i risultati dicono questo quindi diciamo che siamo in perfetta media inglese adesso naturalmente queste prossime due partite diranno molto perché sia in casa che poi in trasferta sabato a Dorriaco a Padova alla fine appunto di queste due partite avremo una classifica ben più delineata stiamo vedendo proprio adesso la classifica la rimettiamo la rimettiamo in sovra impressione perché ecco la classifica a sei punti a sei punti noi abbiamo ancora un turno di per di stop diciamo per il campionato squadre dispari però se riusciamo a fare buoni risultati nelle prossime due partite sicuramente si formerà un gruppo di testa che speriamo di di entrarci appunto in questo gruppo di testa per poi giocarci tutte le nostre chance fino alla fine insomma non sarà facilissimo però naturalmente ce la stiamo mettendo tutta noi dal punto di vista dell'impegno e dell'abnegazione del gruppo non possiamo non possiamo dire nulla l'allenatore naturalmente ci chiede sempre ci chiede sempre il massimo e quindi e quindi va bene così certo ma insomma continuiamo a vedere questa classifica insomma tra l'altro poi quest'anno ci sono insomma pareggi la particolarità insomma che quest'anno che con il pareggio riuscite a ottenere un punto quindi è positiva questa cosa sì diciamo che si è tornati un po' alla regola iniziale perché si è tornati ai due punti a vittoria un punto a pareggio quindi naturalmente il pareggio adesso ritorna ad avere una valenza molto significativa perché comunque un punto fa classifica sposta gli equilibri di un campionato soprattutto se conquistato in trasferta come è successo a noi in ben due occasioni poi nella palla a mano non è facilissimo pareggiare quindi l'abbiamo preso di buon grado Matteo sì diciamo al di là della media inglese visto proprio nella classifica sei punti in classifica e due pareggi colti fuori casa ma anche perfetta media e perfetta parità anche nel numero di reti segnate subite 114 a parte questa statistica che dice anche che il Cologna nonostante una gara in meno ha un'ottima difesa che sarà una chiave rivolta della partita di mercoledì 88 gol subiti è vero che è una gara in meno rispetto alle altre rispetto ad alcune delle altre perché ancora ha osservato già il turno di riposo rispetto a Padova Teramo Modena e Carpi che devono ancora riposare però già i questi primi dati dicono che ha un'ottima difesa sta facendo un ottimo campionato è una squadra rognosa però Teramo in casa dopo lo stop contro Bologna che comunque è primo in classifica e ha vinto tutto tranne il primo pareggio all'esordio ha dimostrato di contro Carpi di avere un grosso vantaggio quello di giocare davanti a un buon pubblico mercoledì sarà anche un giorno di festa quindi da questo punto di vista ci si può aspettare anche una grande cornice di pubblico queste due gare come diceva Andrea sicuramente saranno molto molto importanti per vedere un po' come si sgrana la classifica che di fatto è ancora in equilibrio perché tra la prima e la terza ultima sono ancora tre punti sono tutte lì ovviamente col fatto dei due punti ci sono stati tanti pareggi e quindi proprio questo che si dice cioè il fatto che ci sia comunque la possibilità di si è tornati e la possibilità di poter pareggiare quindi di prendere un punto livella tantissimo un po' tutti sullo stesso piano non c'è un ammazza campionato no a parte il Bologna diciamo che le altre sono tutte abbastanza equilibrate diciamo si equivalgono quindi veramente la differenza è minima e basta poco per poi creare un distacco diciamo noi un bonus ce lo siamo giocati contro Bologna in casa adesso non vogliamo più sinceramente ripetere quello che successe un mese fa più o meno un mese e mezzo fa e dopo c'è stata una bella strigliata devo dire siete ripartiti sì più che strigliata ci siamo resi conto che che potevamo far di più sicuramente quella è stata una battuta d'arresto non preventivata e non preventivabile perché forse è un passaggio a vuoto che poi in certi momenti può fare anche bene può fare anche bene infatti ha fatto bene ci siamo ricompattati abbiamo comunque lavorato sodo stiamo lavorando sodo ripeto la benegazione del gruppo non si discute perché veramente siamo la scuola è formata da quasi tutti i terramani con qualche ragazzo comunque abruzzese sempre abruzzese quindi tiene molto a questa maglia tiene molto a questa città veramente ci alleniamo in maniera molto dura e molto soda con Marcello che è molto noto per questo tipo di allenamento quindi stiamo stiamo facendo tutto quello che lui ci chiede i risultati infatti stanno iniziando ad arrivare ma che obiettivi comunque man mano che passano le giornate che obiettivi pensate di potervi porre poi lo chiedo anche a Matteo che comunque sia da esperto guarda in cuor nostro abbiamo un obiettivo che è quello di arrivare tra le prime due sappiamo che non è facilissimo perché comunque la squadra nostra ha discapito di qualche elemento tipo me è una scuola molto giovane e ha la prima esperienza in un campionato che seppur si è livellato un po' negli ultimi anni è sempre un campionato di Serie A di Serie A 1 quindi può succedere come è successo con il Bologna che si sente di più la partita quindi facciamo anche il conto i conti con queste situazioni sappiamo che possiamo far bene e comunque lavoriamo per questo poi naturalmente il campo sarà sarà sovrano e deciderà lui intanto stiamo vedendo proprio il prossimo turno il turno di mercoledì la sesta di andata dicevamo Matteo che cosa dove può arrivare questa questa Lions l'obiettivo al di là di quello che dice Andrea di fatto è quello ma perché la formula del campionato quest'anno è abbastanza particolare siccome l'anno prossimo c'è la riforma del campionato arrivare nelle prime due significa lasciarsi indietro i tra parentesi brividi ed incubi per lottare per la salvezza tornerà la serie unica al di là di disputare i playoff per lo scudetto sarebbe significherebbe salvarsi senza stare a pensare a play out e altro ovviamente il campionato almeno dietro Bologna che si è confermata al di là della battuta del resto di Teramo anche a Teramo una squadra tra le migliori del girone se non la migliore c'è grande equilibrio perciò queste due gare prossime sono molto importanti perché la gara con Cologna è soprattutto quella di Padova che al momento è primo in classifica contro Bologna ma in una classifica così equilibrata da tenere presente che Padova per esempio mercoledì osserverà il turno di riposo quindi potrebbe scalare indietro soprattutto se i ragazzi biancorossi sono bravi a superare Cologna ripeto non sarà una gara facile perché Cologna è una squadra quadrata e che sta ottenendo buoni risultati in questo campionato soprattutto fuori casa da valutare soprattutto questo aspetto l'obiettivo è quello appunto arrivare tra le prime due per cercare di evitare ogni discorso di play out o comunque di classifiche perché poi la formula del campionato è abbastanza articolata meglio di no e loro li vedono abbastanza carichi comunque li vedo carichi ma sarà merito anche del tecnico sicuramente Marcello Fonti e fisicamente il nostro Andrea come sta? fisicamente grazie a Dio va tutto bene appunto lavorando sodo siamo molto carichi sei tornato alla grande sì 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 siamo siamo bene quindi diciamo che la società ci rende tutte le condizioni possibili per lavorare bene ci fa star tranquilli e adesso tocca solo a noi il campo come dicevo prima sarà sovrano e niente quindi speriamo che possa andare tutto bene certo rimaniamo in seriea di palla a mano commentiamo insomma anche le ragazze le ragazze di di Labbrecciosa insomma un'altra sconfitta se non sbaglio la la quarta la quarta sconfitta consecutiva in altre tante gare insomma non è un inizio diciamo favorevole per la bioatta non è un inizio facile ma di fatto si sapeva perché la squadra ha diversi elementi nuovi diversi elementi davvero giovani che provengono dal settore giovanile e si sapeva perché comunque ha affrontato squadre davvero forti cioè l'Oderzo è neopromosso la prima giornata ma è una squadra costruita per fare molto bene comunque per ottenere i playoff la gara in casa del Salerno campione d'Italia la trasferta sul campo delle estenze forse tra le quattro la trasferta in casa delle estenze poteva essere un po' più alla portata ma si giocava comunque fuori casa e contro una squadra alla ricerca dei primi punti quella di ieri Cassano Magnac è un'altra squadra con diverse giovatrici che giocano da Cassano a diverso tempo il vero scoglio probabilmente è la gara di mercoledì perché si gioca sul campo del Flavioni Civitavecchia dove ci sono tra parentesi alcune ex sicuramente si gioca mercoledì ed è una gara con le laziali che sono a zero punti come il Teramo quello può essere uno scoglio importante un test importante di queste prime cinque giornate tra l'altro giocherà solo la Serie A perché la 2 non giocherà stiamo vedendo grazie alla regia di Cristian De Luca il turno appunto per quanto riguarda la Serie A femminile Andrea le ragazze non vanno insomma diciamo bene rispetto ai maschietti diciamo che era preventivabile perché l'inizio di campionato appunto hanno incontrato le prime squadre del torneo quindi al di là della trasferta di Ferrara come diceva Matteo le altre diciamo che non erano proprio alla portata della scuola Terramano della scuola Terramano attualmente è formata anche questa scuola da molti da molti giovani quindi penso che il tecnico Serrafino la Brecciosa possa possa trarre giovamento da queste battute d'arresto iniziali per poi iniziare il vero campionato che sarà che inizierà appunto da mercoledì che speriamo li porterà alla salvezza o quantomeno un campionato tranquillo bene Matteo un flash sulla 2 sì sono arrivate due vittorie in campo maschile due sconfitte in campo femminile in campo maschile vince Città Sant'Angelo ma soprattutto la NKC Proger Teramo tra parentesi con l'innesto arrivato in settimana di un giocatore che Andrea conosce benissimo come Matteo Di Sabatino che sicuramente è un giocatore importante nello scacchiere della squadra di Franco Chiong una vittoria netta contro la Lazio e primi due punti in classifica dopo la sconfitta di Manfredonia in campo femminile secca sconfitta per il Guardia Grele sul campo del Mugello ma la notizia è che il team Teramo è sceso in campo dopo due gare non disputate e ha giocato anche una buona partita perché ha perso sul campo del Cingoli dopo un ottimo primo tempo ha perso nel finale ovviamente perché la condizione è ancora da affinare la prima partita stagionale di fatto e quindi c'è ancora da affinare un po' la condizione fisica però buone notizie intanto la prima buona notizia è appunto che si è sceso in campo e quindi al di là della penalità di cinque punti in un campionato ricordiamo dove non c'è retrocessione la notizia è che comunque la squadra c'è beh stava diventando grottesco effettivamente questa vicenda del team Teramo in Serie A2 femminile facciamo un ultimo flash sul basket di A2 e di B per dire insomma faregli un minuto il punto sul campionato intanto il Roseto è ancora notte fonda non riesce a risalire le note dolenti più che dalla sconfitta di Forlì di fatto quasi preventirabile la vigilia perché Roseto al di là dei suoi problemi in questo momento di roster aveva di giocatore acciaccati e un straniero fermo ai box per infortunio quindi era davvero sarebbe stata un'impresa vincere sul campo del Forlì però Roseto si è giocata quasi fino alla fine e quindi dimostra di avere comunque dimostra che la squadra magari c'è e bisognerebbe solo intervenire un po' sul mercato per cercare di trovare i giusti di Palantonio a equilibri la notizia brutta è che Bergamo che fino a prima della gara di ieri divideva l'ultimo posto in classifica con Roseto ha vinto fuori casa e quindi adesso Roseto è ultimo in classifica da solo questa è una brutta notizia anche perché vederlo ultimo in classifica da solo a zero punti non è sicuramente una bella cosa per quanto riguarda la B invece seconda sconvitta consecutiva del Giulianova si è un po' frenata questa è Tomilu però insomma Campi e Teramo volano sì Campi rispetto al fattore campo ha vinto contro Fabriano riscattando la gara contro Civitanova grande protagonista Ponziani Teramo ha ottenuto questo primo colpo in trasferta sul campo del Cerignola grazie a una gara accorta ottima in difesa e con giocatori che hanno una prestazione diciamo collettiva perché quattro giocatori sono finiti in doppia cifra c'era stato qualche problema di infortuni in settimana con Milojevic e Stafieri ma hanno risposto bene anche loro quindi una vittoria davvero importante la vigilia di un incontro che si giocherà questa volta giovedì e non mercoledì contro Pescara un derby importante Pescara che viene da una sconfitta sconfitta interna col Porto Santo Empilio tra due squadre appunto che possono recitare un errore importante Pescara in casa di fatto ancora non ha mai vinto ha vinto solo fuori casa quindi un motivo in più di pericolo per Teramo e poi torna a Teramo Stefano Raiola che è in panchina con Pescara Giulianova invece dopo la sconfitta di Fabriano arriva quest'altra battuta d'arresto Senigallia ha avuto un'ottima prestazione soprattutto nel tiro da tre punti e ha avuto sin da subito messo in difficoltà Giulianova che ha avuto delle battute a vuoto soprattutto al tiro di fatto si è ripetuta un po' almeno per percentuali la gara ad esordio contro Teramo solo che questa volta è mancato il rush finale contro quello che avvenne contro Teramo perché Senigallia di fatto ha tenuto alta la concentrazione per tutta la dura dell'incontro penso che siano solo due passaggi a vuoto e non un momento negativo più che altro per Giulianova che comunque mercoledì è attesa da un derby ad Ortona esatto ricordiamo che anche il basket giocherà al turno infrasettimanale però mentre Giulianova ad Ortona e Campli e Recanati giocheranno mercoledì a Teramo Basket Amatori Pescara si giocherà giovedì sera al Palace Capriano bene grazie a Matteo Falsone tanto per non avere la concomitanza con tutti gli sport avremmo comunque sì perché anche la Lions che giocherà alle 18 18 e 30 e quindi io ringrazio Matteo Falsone ringrazio Andrade Marcello e gli rinnovo gli in bocca al lupo per la gara di mercoledì e noi invece ci ritroveremo di prima mattina domani per un nuovo appuntamento arrivederci grazie a tutti